quante considerazioni personali senti se più o meno basta tanto siamo a maggio è un'operazione di quelle strong grande professionalità e interezza chi mi resta qui chi mi resta qui a filmare la ragazza questo sta a continuare la ragazza finché posso dopo passa un altro di qua lei è di là vogliono perquisire le case alla grande che mi male a tutti gli effetti va bene così va bene così non è un problema ragazzi noi non siamo in casa e quindi possono mettere la qualunque anche in casa è non ancora registrato aspetta un attimo ti nemmeno a te nuove sto a scuola attenta che qui non ci lascia veni qua non ci sono risposto un po' più che ci si è Grazie. Grazie. Siamo arrivati a Damo. Dobbiamo arrivare in fondo a questa situazione. Siamo arrivati. 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 ciò che è di nostra appartenenza Grazie 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 Ora devono collocare di convincimento un'altra volta Grazie 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 Grazie. 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 Eh, ragazzi, possiamo farla con uno. Ecco. Ora prenderò soltanto i soldi quando... Ah no, anche aprendo. Eh, per i soldi vada. Non la ruba. Grazie. 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 Già stanno mettendo le mani nella mia auto senza che io sia presente. Stanno già procedendo. Grazie. A conferma che non prendiamo responsabilità per qualunque cosa possa essere messo all'interno. le mani sono già state messe all'interno stringiamo dai stringiamo se abbazzo il finestrino non succede niente non è che entriamo dal finestrino prende un po' d'aria signora il cartello lo capisco ma questa volta è un procedimento diverso signora non è un procedimento amministrativo è un procedimento penale capirò signora non si tratta innanzitutto se ha caldo perché non abbassa un po' il finestrino non succede niente non entriamo dal finestrino si tranquillizzi dai le consigliamo come ha detto il suo collega sbrighiamoci chiami vigili del fuoco e faccia portare l'auto facciamo prima meno male va meno male quindi l'opera di convincimento entriamo la no se è necessario l'opera di convincimento va avanti anche una o due ore eh ma il suo collega ha fatto così il mio collega ha fatto una gestualità che io interpreto come lei ci deve interpretare e non come mi intende lei come la interpreta? come so di interpretarla signora ci metterà ah è un segnale vostro può essere un dialogo tra me e lui non capisco perché deve intendere che un gesto del genere significa stringere di dire va beh lo intenderà il giudice sarà il giudice a intenderlo sarà una nostra scelta operativa gestirlo in questa mani se questo dialogo non ha frutti soprattutto per quanto riguarda la salute della signora che vedo che comincia a soffrire il caldo quindi comincia a soffrire il caldo assolutamente si stanno preoccupando per la tua salute stai soffrendo il caldo aspetta ti faccio entrare la luce la legge questa è la legge non andate in considerazioni personali dai 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 cos'è? stai cercando di cominciare lì a cominciare a cominciare l'amico ah tu devi fare l'opera di cominciare ah tu ah eh no ma quella è la prassi è la procedura guarda un po' le non hanno chiamato tua sorella fai chiamare tua sorella eh si chiama la mamma si chiama la mamma rispondete non è un po' le 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 che andrà non è un po' le cominciano a chiudermi direttamente ora si chiudo anche questa grazie a tutti grazie a tutti